Tornano anche quest'anno i bandi di concorso per le scuole promossi dal consiglio regionale e dall'ufficio scolastico regionale del Piemonte. Sei i percorsi di lavoro e di riflessione proposti per offrire agli studenti l'opportunità e lo stimolo di approfondire la conoscenza su temi e argomenti che spaziano dalla storia contemporanea all'Europa, dalla cultura della legalità ai corretti stili di vita, dal patrimonio culturale piemontese alle tematiche affrontate dall'assemblea di Palazzo Lascaris. Abbiamo voluto mantenere i bandi sul sistema scolastico, purtroppo posticipati per anche l'avvio tardivo del sistema in presenza. Abbiamo voluto però mantenere alta attenzione su tutti i temi degli scorsi anni con modalità diverse, non più viaggi ma premialità in denaro agli istituti e alle classi che vinceranno i bandi e poi anche mantenendo però alta attenzione sui vari temi, quello della prevenzione della salute e del benessere, quello riferito all'organo consultivo, all'associazione Gianni Oberto che cura la cultura piemontese e cultura territoriale e poi anche quella riferito a tutti gli organi consultivi della presidenza del Consiglio regionale che fa riferimento a quello che viene definito da più tempo il rispetto della persona. Come Ufficio Scolastico regionale vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione e l'apprezzamento per il fatto che anche quest'anno il Consiglio regionale sia riuscito, pur in questa particolare situazione, a riproporre i bandi ormai molto conosciuti dalle scuole. Anzi, quest'anno c'è stato un adattamento alla situazione per renderli più fruibili da parte delle scuole, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento e anche per quanto riguarda i premi perché le scuole potranno avere attraverso questi premi anche un arricchimento della loro dotazione di strumenti e attrezzature informatiche da utilizzare per la didattica digitale. Accanto al concorso ambasciatori del Consiglio regionale, alle note del cuore, al premio Oberto, torna anche nell'anno scolastico 2020-2021 il progetto di storia contemporanea che si concentra, tra gli altri argomenti, sull'epidemia di spagnola di inizio novecento e sul covid. Negli anni Ottanta è stato ideato il progetto di storia contemporanea che ha visto coinvolti per 40 anni studenti e insegnanti a cui va il mio sincero ringraziamento. I temi di quest'anno dibattuti sono il fascismo e la guerra, i simboli del passato, la spagnola, il covid, il ruolo della scienza e della conoscenza. Calamandrei diceva che la libertà è come l'aria, si sente quando manca. È una frase davvero portante e illuminante in un momento difficile e tragico come questo. Questo progetto deve contribuire a dare un senso diverso a un anno scolastico, mutilato e anomalo, che purtroppo non ha potuto vedere gli studenti e gli insegnanti in presenza e non ha potuto favorire il loro contatto. Curato dalla consulta europea, invece, il concorso Diventiamo Cittadini Europei, che prevede lo sviluppo di una riflessione in forma testuale o creativa su tematiche inerenti al ruolo e all'attualità dell'Unione Europea. Il concorso della consulta europea Diventiamo Cittadini Europei non si ferma nonostante l'emergenza covid. Attraverso la scelta di due lavorati iscritti, uno sul percorso dell'Unione Europea in merito all'emergenza sanitaria e l'altro sulla Brexit, i partecipanti potranno fornire un contributo di idee molto importante. Io nel ringraziare le decidi migliaia di studenti che finora hanno partecipato al concorso, mi rivolgo anche e soprattutto alle insegnanti perché svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione e nella formazione sulle tematiche europee. Attraverso la possibilità di sviluppare due temi, uno legato evidentemente al covid, alla pandemia che ci ha colpiti nel 2020 e l'altro legato alla Brexit, all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, avranno la possibilità di confrontarsi tra di loro, di approfondire quelli che sono temi importanti che passeranno alla storia e soprattutto di comprendere meglio quella che è la macchina dell'Unione Europea, la più alta istituzione a cui il nostro Paese partecipa. L'invito è rivolto quindi a tutti i ragazzi. L'anno scorso abbiamo avuto più di 800 temi, 60 scuole coinvolte e 150 vincitori. Auspico che anche quest'anno i ragazzi vogliano partecipare con entusiasmo per dimenticare le cose brutte del 2020 e cominciare ad affrontare il 2021 con entusiasmo. Infine per la cultura delle legalità e dell'uso responsabile del denaro i ragazzi dovranno realizzare un video sui fenomeni del sovraindebitamento e dell'usura ai tempi del covid o sul tema del gioco d'azzardo. Abbiamo voluto dare un segnale forte in questo momento perché uno degli effetti collaterali di questa pandemia è anche l'aumento di casi di usura e di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno del tessuto sociale ed economico del Piemonte. Proprio per questo motivo quest'anno uno dei temi sarà anche il sovraindebitamento ai tempi del covid. Quindi gli studenti potranno scegliere tra due argomenti per il loro video e per il loro testo o il gioco d'azzardo quindi ricadute sulla salute sulla famiglia e sul tessuto economico oppure il sovraindebitamento ai tempi del covid. Pensiamo che questa sia un'iniziativa importante anche per far prendere coscienza e consapevolezza di questo momento anche da parte degli studenti. Diciamo che l'usura prende forma dai banchi di scuola e quindi è proprio lì che noi dobbiamo investire dove noi vogliamo investire per avere questi ragazzi cioè che sono il nostro futuro di domani vengano a conoscenza tramite la cultura di cos'è praticamente la conoscenza del sovraindebitamento dell'uso del danaro ma soprattutto noi vogliamo giovani che hanno una consapevolezza per gestire il loro futuro. Ai ragazzi vincitori dei concorsi verrà omaggiato l'abbonamento Musei Young anche per dare un sostegno al settore della cultura in una fase economica particolarmente critica. L'abbonamento verrà assegnato anche ai 295 ragazzi che si sono aggiudicati premi nel 2020 e che non hanno potuto partecipare ai consueti viaggi studio a causa dell'emergenza sanitaria.